ecco posso andare vedi già mia braccia è qui anche tu stai scappando manca per tempo difficile non tanto vedi sono qui vedi in questo caso io posso fare il triangolo dall'altra parte perché i ginocchi già non posso inserire vedo questo io posso cambiare e di qua ora cosa faccio con i ginocchi vedi dall'altra parte sento 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 spottinamento anche lì tallone sento qua male calco male qui e lavorano tu puoi lavorare anche te ma ecco tuosicivo adesso mettere un pulio in questo modo per tolleri si fai una cultura come stiamo bella lui può essere tecnico sì qua c'è ancora una stanza per te però deve 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 fare in un modo tale che togli basta però questa merda si prende 240.000 euro per un'altra parte non non prendono il tasso non prendono il tasso non prendono il tasso non prendono il tasso perché questa è lì è lì via non prendono il tasso non prendono il tasso non prendono il tasso non prendono il tasso che non prendono il tasso due 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 Voi piano con tutto il corpo Basta qui guarda controllo gomita Controllo gomita Controllo con destra Controllo con destra Controllo mi è testo Controllo Adesso ci va un controllo straordinario Controllo con destra Controllo con destra Controllo con spala Raspala Controllo con destra Basta andare avanti Adesso vai 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 Basta Hop e lui Cosa Vedi, devi mettere gomita Vedi, gomita Non avralli prestaci Vedi, devi mettere gomita E' rapper E' ribeilar Un zelibei Unos, vedi Siorbica Poi, posse prendi subie se lo so, ti sono messi hai dovuto do? prima devi insinuire il ginocchio e no, no ma sopra te dici che sopra di me penso che e di noz in dietro te dici che sopra di me prima e tirare mentalmente che non la vro spazio e finisci mi confuso bene tira te, tira i sua caviglia e finisci mi confuso e finisci me lino e finisci me stai sopra OOO Inzirisci molto più profondi gamba E qui la granuliera? E adesso cadendo insirisci di notici OOO Gino, qui entra in su tutto O, in angolo O Poi entra Gino O, vai 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 OOO 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 E' la cazzo Perchè? OOO OOO Eeeh Questa è Cazzo, guarda buona Basta sapere i principi E se cazzo che mora ti può fare Sopertutto OOO 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 OOO